Continua la corsa del prezzo della benzina in crescita da 16 giorni consecutivi, la tassazione sui carburanti frutterà lo Stato 2,27 miliardi. Il ministro Urso sostiene che siamo i meno cari d'Europa se non consideriamo il costo delle accise. Sul caro voli dopo Ryanair scende in campo l'Associazione Europea delle Compagnere che chiede chiarimenti alla Commissione Europea sul decreto del governo italiano. Non si placa la polemica sul salario minimo raccolte oltre 200 mila firme in poco più di due giorni. Le opposizioni esultano per le adesioni alla proposta di legge sulla quota minima di 9 euro l'ora. Il salario minimo è un boomerang e rispondono dal centro-destra per far crescere gli stipendi. Bisogna stabilizzare il taglio del 7% del cuneo fiscale. L'Ucraina sta lavorando per ottenere un invito al G20 che si terrà in India a settembre, afferma Kiev. Spiegando di voler essere al vertice per affrontare le sfide seguite alla cessazione da parte della Russia dell'accordo sul grano. Ieri una nave porta container ha lasciato il porto di Odessa. È il primo cargo civile a utilizzare il nuovo corridoio umanitario annunciato da Kiev dopo che Mosca è uscita dall'accordo sul grano. Il palio dell'assunta è stato ricco di colpi di scena con una mossa durata mezz'ora e battaglia tra i canapi da 6 contrade nemiche sui 10 su 10 e da cui alla fine dei tre giri è emerso un solo protagonista, il cavallo Zio Frac, che ha vinto scosso, dunque senza Fantino, caduto in precedenza. Un epilogo clamoroso che per uno spettacolo unico al mondo trasmesso in diretta dalla 7. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque in questa estate piena di rincari che stanno mettendo in grande difficoltà chi va in vacanza. In primo piano ci sono quelli che riguardano la benzina e i voli. Sul fronte dei voli i compagnieri si sono rivolte all'Unione Europea per avere un parere sul decreto con cui il governo ha introdotto misure per calmerare i prezzi, in particolare per frenare quell'argo ritmo che li aumenta in automatico senza rendersi neanche conto delle circostanze in cui spesso questo avviene. Poi c'è la questione del caro benzina con aumenti che ormai alza il service in autostrada, sono oltre i 2 euro con punte, sappiamo, sulla Milano-Varese di 2,70 euro. I distributori chiedono un tavolo al governo per un confronto, mentre i consumatori chiedono un intervento sulle accise. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli e sono state rilevate irregolarità in un distributore su quattro. Facciamo il punto. Gli automobilisti in giro per l'Italia resteranno letteralmente al verde al rientro da queste vacanze di ferragosto. Negli ultimi 16 giorni, in concomitanza con l'esodo e poi controesodo estivo, il prezzo medio per il carburante è schizzato a oltre 2 euro al litro. Secondo il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, il fenomeno del caro benzina sarebbe falso perché il prezzo depurato da accise IVA sarebbe inferiore a quello di paesi come Spagna e Germania. Ma assoutenti non ci sta. Sarebbero proprio queste due tasse a pesare per oltre il 50% sul costo di benzina e gasolio. Più della metà del prezzo del carburante andrebbe nelle tasche dello Stato. Un gettito che fa i conti assoutenti solo per gli spostamenti estivi ammonta oltre 2 miliardi. Intanto, nell'estate del caro prezzi, l'associazione che riunisce le principali low cost europee ha scritto alla Commissione di Bruxelles per capire se il decreto Meloni dello scorso 8 agosto, che limita i prezzi delle rotte specialmente con le isole, sia in linea con il diritto comunitario e con le norme sulla concorrenza, che vietano l'intervento sui prezzi di beni e servizi. Il Ministero del Made in Italy, che a settembre avrà un incontro con i rappresentanti delle compagnie aeree, si è detto pronto a rispondere a tutti i quesiti della Commissione e ribadisce che la sua iniziativa è in linea con le direttive europee in materia di tutela dei consumatori di fronte a fenomeni speculativi o distorsivi del mercato. E per quanto riguarda la benzina, sappiamo che poi gli effetti diretti sono sull'aumento di tanti altri prodotti, in particolare i generi alimentari. Intanto ci sono dati che riguardano il prodotto interno lordo, rallenta l'economia italiana e secondo Banca Italia aumenta il debito pubblico. Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo dei paesi della zona euro è cresciuto dello 0,3%, sbloccando così la battuta d'arresto registrata nei primi tre mesi dell'anno. Nonostante l'entità decimale del PIL è il segno più a confortare, che però per quanto riguarda l'Italia si trasforma a cifre immutate in un segno meno, perde infatti esattamente uno 0,3% nello stesso periodo dell'anno la nostra crescita nazionale. In ogni caso il dato continentale fornito da Eurostat non è sufficiente a lasciar ben sperare per i mesi a venire. Guardando alla ripresa autonale, gli investitori europei sono concentrati sulla possibilità di un altro aumento, l'ennesimo, dei tassi di interesse da parte della BCE. L'inflazione di base nell'Eurozona a luglio infatti non è ralentata come previsto da Francoforte. I dati economici tedeschi confermano una Germania in prospettiva ancora debole e adesso anche l'Olanda, secondo Eurostat, è entrata ufficialmente in recessione. Tornando a noi, col meno 0,3%, l'Italia, da prima della classe per tasso di crescita europeo, scivola così al penultimo posto, prima solo dell'Austria. La Banca d'Italia migliora l'andamento di Francia e Spagna con un più 0,5% e un più 0,4%. Ma invece il dato della Banca d'Italia sul debito pubblico è impressionare di più. A giugno è aumentato di 27 miliardi e 800 milioni di euro rispetto al mese precedente, fissandosi a 2.843 miliardi. E questo nonostante gli oltre 38 miliardi di entrate tributarie in aumento del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2022. E poi c'è il dibattito sul salario minimo con le opposizioni che continuano ad attaccare il governo e la raccolta firme che hanno lanciato, che continua a raccogliere consensi, si è arrivati ad oltre 200 mila. Sappiamo che per quanto riguarda la maggioranza la strada non è quella, preferisce affidarsi alla contrattazione collettiva. Nel caso appunto gli interventi potrebbero riguardare una piccola platea che resta fuori appunto da questo aspetto, meglio puntare sul taglio del cuneo fiscale. Opposizioni compatte sulla proposta di salario minimo da cui si sfila solo Italia Viva, governo scettico. Per gli esponenti della maggioranza non risolve il problema dei salari bassi e rischia di essere controproducente. In pochissimi giorni la petizione online lanciata dalle minoranze ha raccolto oltre 200 mila firme. Esultano sui canali social per i numeri inaspettati il Verde Bonelli e il segretario di sinistra italiana Fratoianni che rivendicano la misura per contrastare il lavoro povero. Non è una bandierina ma una necessità che attraversa la carne viva di milioni di lavoratori, afferma dal PD Arturo Scotto. Una soluzione che non convince l'esecutivo, tanto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha delegato il dossier al CNEL spiegando tutte le perplessità nel confronto di venerdì scorso a Palazzo Chigi che ha avviato sì il dialogo ma ha congelato le posizioni che restano appunto distanti. Il governo attacca dal Movimento 5 Stelle Chiara Pendino, nega il dramma sociale e lavora al contrario aiutando i potenti. Si smarca dal fronte unitario Matteo Renzi che non ha sottoscritto la proposta di legge comune delle opposizioni. L'utilità della raccolta firme è pari allo zero, scandisce il leader di Italia Viva. Se vuoi aumentare i salari devi ridurre le tasse sul lavoro. E se per la maggioranza meglio sarebbe puntare sulla contrattazione collettiva, da Fratelli d'Italia rilanciano il taglio del cuneo fiscale. Sul salario minimo interviene anche il vicepremiere e ministro Antonio Tajani. Fissato per legge è un boomerang, meglio agire attraverso i contratti collettivi. Se ne riparlerà dopo la pausa estiva ma i toni dello scontro restano alti. Parliamo adesso del conflitto in Ucraina con Kiev che sta cercando di essere compresa nel G20 che si organizzerà in India dal quale per il momento è stata esclusa perché non è stata invitata. Un'occasione per poter parlare in maniera approfondita delle sfide nuove lanciate dal passo indietro che ha fatto la Russia per quanto riguarda la possibilità di esportazione di grano. Al G20 che si terrà in India il 9 e 10 settembre l'Ucraina vuole esserci. Nuova Delhi ha invitato Putin e che può così segnare un punto importante contro l'isolamento internazionale del Cremlino ma non Zelensky. Le ragioni, fa sapere l'India, sono legate all'agenda dei lavori che prevede di affrontare i temi della crescita e dello sviluppo non di come risolvere i conflitti. Kiev replica spiegando che ciò che la federazione russa sta facendo riguardo alla risoluzione dell'accordo sul grano sia una grande sfida per le economie, non solo dei paesi africani e asiatici ma anche per quelle mondiali. Nello scacchiere diplomatico, volta a trovare una via d'uscita al conflitto, entra dunque anche la strategia del grano. Ieri, dopo che il mese scorso Mosca non ha rinnovato l'accordo per consentire alle navi di trasportare il grano perché, secondo la Russia, verrebbero utilizzate per rifornire di materiale bellico le forze armate ucraine, è salpata dal Mar Nero la porta-contenere Yosef Schulte, battente e bandiera di Hong Kong. La nave, ha spiegato il ministro ucraino alle infrastrutture, sta navigando lungo il corridoio, provvisoriamente stabilito per le navi civili, ed ora sta facendo rotta sul porto turco di Ambarli, nel mar di Marmara. E proprio la Turchia di Erdogan è un'altra tessera fondamentale nel mosaico internazionale. Nelle prossime settimane Putin dovrebbe volare ad Ankara per incontrare il presidente turco. Difficile dire se il faccia a faccia tra i due porterà ad un risultato concreto, ma certamente al momento sembra essere un passaggio importante. Soprattutto dopo che le autorità di Kiev hanno respinto al mittente l'ipotesi fatta circolare da ambienti della Nato della possibilità di arrivare ad una tregua lasciando all'invasore russo i territori occupati in cambio del via libera all'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica. Sarebbe la sconfitta della democrazia e l'incoraggiamento per il regime criminale russo che continuerebbe a calpestare il diritto internazionale, ha commentato il consigliere di Zelensky Podoriak. Sulla questione è dovuto intervenire anche il segretario della Nato Stoltenberg e la nostra posizione sul sostegno alla sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina puntualizzato è chiara e non è cambiata. Così come non è cambiata l'offerta dell'Alleanza Atlantica di addestrare i piloti ucraini sugli F-16 ma ci vorranno ancora mesi. È ovvio già ora, conferma il portavoce dell'aeronautica militare di Kiev, che non saremo in grado di difendere l'Ucraina con gli F-16 questo autunno-inverno. Andiamo adesso in Canada, dove il ministro dell'Ambiente e dei territori del nord-ovest ha ordinato ai quasi 20.000 residenti di Yellowknife, una delle più grandi città del paese, di andarsene entro mezzogiorno di domani. L'ordine di evacuazione è stato diramato a causa degli incendi violenti che potrebbero raggiungerla entro la fine della settimana. Al momento è utilizzabile una sola autostrada aperta a sud, mentre si stanno organizzando anche voli commerciali e militari per consentire ai residenti di mettersi a riparo dal fronte del fuoco che attualmente si trova a circa 17 chilometri dal capoluogo regionale. La città, ha spiegato il ministro, non è in pericolo immediato, ma senza pioggia è possibile che il fuoco raggiunga la periferia della città nelle prossime 24 ore. E adesso torniamo in Italia per parlare di due incidenti che si sono verificati tra laghi e fiumi. Un'imprudenza fatale per chi non ha dimestichezza con il nuoto e con le insidie dei laghi e dei fiumi. Sono morti così un ragazzo di 20 anni che si era tuffato nel lago di Bolsena e una bambina di 11 anni sparita in acqua mentre faceva il bagno con due sorelle e un'amichetta davanti alla foce del torrente Meria sulla sponda lecchese del lago di Como in Lombardia. Erano entrambi di origini senegalesi e non sapevano nuotare. Il corpo senza vita della bambina è stato ripescato dopo molte ore di ricerche dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Si trovava a 5 metri dalla riva. La bambina è stata tradita dal fondo memmoso del lago. Alcuni bagnanti sono intervenuti in soccorso riuscendo a mettere in salvo le sorelle più grandi e un'altra bambina ma per la piccola Fatutiao, residente a Bulciago, in provincia di Lecco, non c'è stato nulla da fare. Anche a Bolsena il ragazzo senegalese che viveva a Viterbo è sparito dopo un tuffo dal pedalò a pochi metri dalla riva. I sommozzatori hanno ripescato il corpo del giovane dopo una giornata di ricerche. Ricerche che invece non hanno ancora avuto successo in Trentino nelle acque del fiume Sarca dove è scomparso un altro ragazzo di 24 anni, di Verona. Insieme con un gruppo di amici per passare il ferragosso si era sistemato in una spiaggia non lontano dalla centrale idroelettrica FIES di DRO. Dopo il tuffo non è più riemerso. Impegnati nelle ricerche, oltre ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trento, i volontari di DRO e il personale del soccorso alpino. Ed è caccia all'uomo nei boschi attorno a un borgo collinare in provincia di Cuneo dove decine di carabinieri da ieri pomeriggio cercano Sasha Chang, un giovane di 21 anni. Lo vedete in questa fotografia di origine olandese e con qualche problema psichico. il ragazzo è accusato di aver ucciso a coltellate il padre e un altro uomo, un amico di famiglia. Il presunto omicida è fuggito nei campi e nelle foreste che circondano Montaldo o Mondovì dove il ragazzo era ospite per un periodo di vacanza nella casa di una famiglia di amici del padre. E non ha risposto alle domande del GIP nell'interrogatorio per la convalida dell'arresto. ieri in carcere a Bolzano Omar Cim, il 28enne di origini turche sospettato dell'omicidio dell'ex fidanzata di 21 anni uccisa a Silandri in Val Venosta appunto questo uomo, questo ragazzo non collabora. Interrogatorio è durato pochi minuti Cim ha fatto scena mute i suoi legali dicono che il 28enne è sotto shock il GIP ha convalidato il fermo e dunque resta in carcere intanto emergono i primi dettagli dell'autopsia svolta sul corpo della vittima uccisa da nove coltellate sarebbe morta, è morta anzi perché è stato accertato per shock emorragico a causa della lesione della carotide e di un'arteria polmonare il presunto killer dunque resta in carcere perché esiste il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. Ed è scomparsa una delle più grandi voci della lirica del Novecento la soprana Renata Scotto originaria di Savona si è spenta 89 anni nella sua casa di New York Milano-Londra New York nella sua lunga carriera Scotto ha calcato i teatri più prestigiosi del mondo con oltre 300 ruoli interpretati da Violetta nella Traviata alla Madame Butterfly e l'autorità arrivò nel 1957 quando sostituì in scena Maria Callas nella Sonnambula Edimburgo perdo una carissima amica e una delle più grandi cantante liriche di tutti i tempi il saluto del maestro Plasido Domingo. Adesso la pagina sportiva che questa mattina apriamo con il Palio di Siena che si è corso ieri e che ha avuto un epilogo che a volte accade ha vinto un cavallo scosso un'edizione entusiasmante vediamo com'è andata Una mossa particolarmente complicata perché questo era un Palio con tre coppie di rivali che si sono assiepate ovviamente l'ordine è casuale sul lato sinistro sul lato basso questo ha reso la mossa particolarmente complicata Tanti colpi di scena durante la corsa con la giraffa di Titia a caccia della sesta vittoria consecutiva dell'undicesimo Palio che però va giù qui al primo San Martino a quel punto la Pantera prende una situazione di vantaggio che giurerà praticamente fino al San Martino all'ultimo San Martino al terzo giro ma anche lì ci sarà una caduta la parte di Scompiglio la parte di Bartoletti e dunque il colpo di scena della vittoria da parte dell'Oca Oca che vince col cavallo scosso che torna alla vittoria che mancava dal luglio del 2013 che vince con Zio Frac riesce nel finale a resistere al tentativo alla parte di Gesù Carboni di Carburo su Tabacco e dunque c'è la vittoria per l'Oca la vittoria dunque dell'Oca in questo Palio del 16 agosto queste le bellissime immagini trasmesse ieri in diretta dalla 7 intanto l'attesa per il nuovo commissario tecnico della nazionale dovrebbe terminare domenica perché i legali della federazione in Napoli stanno lavorando per eliminare gli ostacoli alla nomina di Spalletti dopo il ferragosto delle roventi polemiche firmate dei Laurentiis sembra tornata la calma nessuna replica da via Allegri mentre ha iniziato a far rispenti il lavoro delle diplomazie entro domenica sapremo se avrà funzionato il negoziato destinato ad agevolare l'approdo di Spalletti sulla panchina lasciata libera da Mancini e proprio all'ex CT la Federcalcio sarebbe intenzionata a chiedere i danni per una vicenda senza dubbio gestita male nervi tesi pure fra Juventus ed asso calciatori per il caso Bonucci messo alla porta dal club e difeso però a spada tratta dal sindacato per il difensore aperta una trattativa con la Lazio la società capitolina intanto dà il benvenuto a Rovella con un video social a suon di musica Rovella quindi nuovo direttore dell'orchestra Bianco Celeste oggi le visite mediche insieme all'altro acquisto Juventino Pellegrini mentre la Roma in dirittura d'arrivo e negoziati con l'Aston Villa per Zaniolo accoglie con un video il nuovo acquisto Renato Sanchez fortemente voluto da Mourinho e Paredes tornato a Trigoria sei anni dopo indosserà la maglia numero 16 quella di Daniele De Rossi quella Juve che Paredes ha lasciato è in trattativa con il Sassuolo per Berardi considerato perfetto per completare l'attacco forse oggi si chiude e sembra a buon punto in quel reparto l'Inter che dopo il definitivo no a Samargic ha dato il benvenuto all'austriaco Arnautovic transitato alla Pinettina già nel 2009 e adesso pronto al grande salto in Champions visite mediche anche per l'ex milenista De Ketelare ultimo acquisto di un Atalanta che può cedere Muriel al Monza ma non si può non accennare al campionato a Saudita domani l'Alnasser di Cristiano Ronaldo contro l'Alta One sulla 7D in diretta alle 20 e replica sulla 7 alle 23.30 alla Saudi Pro League ha detto di no Zenischi del Napoli ma il nome dell'ultimo arrivato è davvero da brividi queste le prime immagini di Neymar con la casacca dell'Al-Hilal che lo pagherà 40 milioni l'anno ricchissimi bonus esclusi per due stagioni per il brasiliano anche 8 supercar in garage una villa con 3 saune ed un aereo privato a sua completa disposizione e chiudiamo con il tennis al Master 1000 di Cincinnati ieri non è stata una giornata fortunata per i nostri giocatori Yannick Sinner non al meglio della condizione ha ceduto 4-6-6-7 al Serbo Lachovic un ventiduesimo compleanno amaro per il giocatore Altoatesino tre giorni dopo il successo nel torneo di Toronto che lo ha portato al sesto posto nella classifica ATP Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set 6-3-6-2 dal russo Medvedev numero 3 del mondo eliminato anche Lorenzo Sonego dallo statunitense Taylor Fritz sempre in 2-7-6-4-7-6 il risultato in favore del tennista di casa ed è tutto per questa edizione ora le informazioni sul traffico con Valeria Colombo e le previsioni meteo grazie per averci seguito buona giornata